Oh, ecco qua, et voilà! Che profumino! Eh sì, tesoro, ho preparato il tuo piatto preferito, linguine con le vongole! Hai preparato la cena per me? Eh sì, amore, ho preparato la cena, diciamo, al lume di candela. E da quando sei tornato ad essere così romantico? Da quando? Da quando ci hanno tagliato la luce, non ho pagato la bolletta. La bolletta? Eh sì. Ecco, lo sapevo. Eh vabbè, amore, non ti arrabbiare, capito? Mangiamo le linguine con le vongole e brindiamo, dai, fizz la salute, amore, dai, non ti arrabbiare, non è niente, tu puoi pagare la bolletta. Oh, ecco, 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 ecco. Ah, ecco. Oh, ecco.